Nella notte si è conclusa la caccia all'autore dell'investimento mortale avvenuto la notte del 19 gennaio scorso a Nichirino, lungo la strada provinciale 143 che collega Orbassano a Stupinigi, dove i carabinieri erano intervenuti trovando il cadavere sul ciglio della strada di un albanese che oggi avrebbe compiuto 36 anni. L'esecuzione di acquarati rilievi sul posto, l'acquisizione dei filmati delle telecamere di video e sorveglianza presenti in tutte le possibili vie di fuga, percorribili dall'automobilista responsabile dell'omicidio, hanno consentito ai militari dell'arma di stringere il cerchio su una Golf di colore bianco, che dopo l'urto aveva lasciato in terra lo stemma di marca staccatosi dall'avantreno. Piccoli dettagli che però hanno fatto assaltare presso le carrozzerie del circondario metropolitano in interrotte e mirate ispezioni. Il controllo in un'autofficina di Giaveno ha consentito di trovare la Golf gravemente danneggiata e con tracce matica ancora visivamente riscontrabili sul cofano, portata lì nella mattinata del 20 gennaio direttamente dal proprietario, che aveva riferito all'ignaro carrozziere di aver investito accidentalmente un capriolo. Rintracciato e condotto in caserma, l'uomo, un operaio 34enne di Giaveno, messo all'estretta ha confessato, sottoposto fermo di indiziato di delitto e tradotto verso il carcere di Torino, doveva ora rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.